Buongiorno, allora io sto facendo un esperimento antitruffa Contacless e volevo chiederti una cosa, intanto tu hai una carta? Sì, io? Sì, ce l'hai? Sì, sì E Contacless? Contacless, certo Ok, posso vedere dove la tieni? Tranquillo, eh, c'è una Sì, sì C'è un quattro? Sì, questo Ce l'ho nel taschino Ah, perfetto Qua dentro, sì Posso fare un esperimento con lei? Beh, se vuole Però tanto, va bene Guardi, è tutto irregolare Sono sempre curioso Sì, va bene Ti fidi? Non ti conosco, ma mi fido Vabbè, guarda, guarda Io adesso mi semisco 10 euro qui e premo ok E lei potrà tranquillamente mettere il portafoglio sopra il post e da qui può vedere la transazione Guardi, comunque 10 euro io risco subito Così, se per caso li prelevo, così ti fidi Ok, perfetto Proviamo Proviamo Vedi? Eh, non molto Io inserisco, aspetta, 10 euro Ok Allora, appoggia pure sopra Guardi qua Appoggia meglio Più un po' così Accettato Accettato Hai visto? Te lo presi? Eh sì Sì Ma Te lo presi? 10 euro? Sì Sì Quindi io posso rivedere dal mio conto Assolutamente sì Assolutamente sì Allora, adesso facciamo un'altra prova Io ti do questa tessera Ok Questa è una tessera protettiva E devi mettere vicino a questa qui Vicino alla mia? Quindi magari la metti qua Esattamente Ok E adesso chiusi il portafoglio Riproviamo la transazione Se per caso ti prelevo altri 10 euro Te le do sotto Riproviamo ancora 10 euro Vai Guarda Più vicino Riprova a poggiare magari Eh, non la prende No, dice inserire carta Praticamente non esiste Sì, esatto È come se non ci fosse Non la legge Tu non leggi Perché c'è quella carta Esatto Niente No, è vero non lo sa Cioè come se non esiste Non esiste il conto Non la prende Non te la legge per niente Se dire carta E quindi? Non trova niente Non trova niente Hai visto? Quindi fa lo schermo No Non lo sapeva neanche Che si potesse prendere i soldi Non lo sapeva questo? No Veramente no Diciamo che è una protezione Per eventuali trucchi Eh no Perché io di solito Vado in giro E la tengo tranquillamente in borsa Anche solo malpasta Sì sì Disattiva praticamente il conto Siccome hai partecipato a questa prova Io questa te la regalo Grazie Spero che mi sarà utile Sicuramente Non si sa mai Meglio prevenire che curarci Quindi a sto punto Ragazzi Grazie mille Grazie mille Siete stati gentilissimi Grazie Questo è un regalo Che vi faccio Per la vostra partecipazione Grazie Va bene La ringrazio Grazie mille Diciamo i ridati Sì grazie Grazie mille E buona giornata Ciao 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 Grazie a tutti.